Il comune senso dell'ironia hai detto con Rossini, un piacere goloso per la vita, per l'arte, per le donne, per il cibo, anche una malinconia in Rossini, no? Sì, è vero, bravo, proprio perché è uno che ha avuto una giovinezza difficile e soprattutto la sua magia era la memoria nella musica. Quasi prigioniero di una capacità straordinaria di riprodurre… Un fenomeno. Un fenomeno. È faticoso essere fenomeni secondo te, Dario? Non l'ho ancora preparato del tutto, cerco di fare il fenomeno. No, no, cerco di fare il fenomeno. La vita ti è piaciuta da subito a te? Subito, subito, subito. E soprattutto l'espressione di fissare i tempi della vita. Io disegnavo quasi come fosse una scrittura, è ancora oggi. Quando ho problemi sul tema che sto svolgendo di una commedia, di un libro, di un romanzo, ho proprio dei vuoti e delle difficoltà. E cosa faccio? Disegno e dipingo. E lì pian piano mi si scioglie tutto, riprendo, lascio la pittura, ma ferma, no? E poi ricomincio a scrivere o a recitare. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.